Leopoldo Trieste, nato il 3 maggio 1917 a Reggio Calabria, in Italia, è stato uno stimato attore italiano la cui vita si è svolta come una narrazione accattivante di abilità artistiche e tribolazioni personali. Rinomato per la sua versatilità, la carriera di Trieste ha attraversato diversi decenni, lasciando un segno indelebile nel panorama cinematografico e teatrale italiano. Il viaggio di Trieste nel mondo delle arti è iniziato nel regno del teatro, dove ha affinato la sua arte e sviluppato un profondo apprezzamento per le sfumature della performance. Il suo talento e la sua dedizione lo catapultarono presto nel mondo del cinema, dove avrebbe dato un contributo significativo all'industria cinematografica italiana. Una delle collaborazioni più importanti di Leopoldo Trieste è stata con il leggendario regista Federico Fellini. Le sue apparizioni nei film di Fellini, tra cui l'iconico La dolce vita, 1960, e Otto e un mezzo, 1963, hanno dimostrato la capacità di Trieste di conferire profondità e autenticità ai suoi personaggi. Le sue collaborazioni con altri registi acclamati, come Lucchino Visconti e Vittorio De Sica, consolidarono ulteriormente la sua reputazione di attore formidabile. La carriera di Trieste si è estesa oltre il grande schermo per includere teatro, televisione e persino attività letterarie. Il suo talento poliedrico gli ha permesso di passare senza problemi tra diversi mezzi, dimostrando una versatilità che lo ha reso caro sia al pubblico che ai colleghi. La tragedia che ha colpito la vita di Leopoldo Trieste, stimato attore italiano, si è svolta nella straziante perdita di suo figlio Claudio. Questo evento devastante gettò un'ombra profonda sul mondo triestino, alterando il corso della sua narrazione personale e lasciando un segno indelebile nel suo cuore. Claudio Trieste, figlio dell'eredità artistica del padre, era destinato a portare la fiaccola del nome Trieste nel mondo. La promessa di un futuro luminoso e i sogni che spesso accompagnano i giovani sono stati improvvisamente infranti da un tragico incidente stradale. I dettagli sulle circostanze dell'incidente e sulla perdita di Claudio rimangono privati, protetti dal velo protettivo del dolore personale. La morte improvvisa e prematura di un bambino è un dolore profondo che trascende i confini del pubblico e del privato e, per Leopoldo Trieste, la tragedia colpisce il cuore della sua esistenza. Il legame tra un genitore e un figlio è un legame sacro e la perdita di un figlio è un dolore indicibile che non riesce a esprimersi. Leopoldo Trieste, noto per le sue performance emotive sullo schermo, si è trovato catapultato nella più profonda delle esperienze umane, il dolore di seppellire il proprio figlio. L'indomani della morte di Claudio è stato un paesaggio di lutto, dove gli echi della perdita risuonavano attraverso i corridoi della vita della famiglia Trieste. I sogni e le aspirazioni che erano stati intessuti nell'esistenza di Claudio furono sostituiti dal pesante peso dell'assenza, lasciando dietro di sé un vuoto che non avrebbe mai potuto essere riempito. Di fronte alla tragedia, Leopoldo Trieste affrontò la duplice sfida di piangere un figlio amato e di trovare la forza per affrontare le complessità del dolore personale agli occhi del pubblico. Il personaggio pubblico dell'attore affermato coesisteva ora con la narrazione privata di un padre in lutto. L'impatto della morte di Claudio ha permeato ogni aspetto della vita di Trieste. Ha influenzato le dinamiche della sua famiglia, ha alterato i contorni della sua identità e ha aggiunto strati di complessità emotiva al suo percorso artistico. Il palcoscenico, che era stato una piattaforma per performance ed espressione, ora è diventato uno spazio in cui le sfumature del dolore personale venivano incanalate nei personaggi da lui interpretati. La scomparsa di Claudio ha lasciato un vuoto duraturo nella famiglia Trieste, un vuoto che non poteva essere riempito dai riconoscimenti di una carriera di successo. o dall'adulazione dei tifosi. La capacità di Leopoldo Trieste di continuare a creare arte, di trovare un significato di fronte a una perdita così profonda, rimane una testimonianza della resilienza dello spirito umano e del potere di trasformazione dell'espressione artistica nel crogiolo della tragedia personale. A testimonianza della sua resilienza, Leopoldo Trieste ha continuato a contribuire alle arti, mantenendo una presenza sia nel cinema che nel teatro. Le sue esibizioni mostravano una risonanza profonda ed emotiva che parlava delle profonde esperienze che la vita gli aveva impartito. Nell'ultima parte della sua carriera, Trieste dovette affrontare problemi di salute e i suoi ruoli divennero meno frequenti. Tuttavia, è rimasto una figura rispettata nella scena dell'intrattenimento italiano, e la sua eredità è sopravvissuta attraverso il corpus di lavori che aveva accumulato nel corso degli anni. Il 25 gennaio 2003, Leopoldo Trieste muore all'età di 85 anni, segnando la fine di una carriera storica durata oltre 60 anni. La sua morte non è stata solo la perdita di un attore di talento, ma anche la partenza di un uomo che aveva superato le tempeste personali con grazia e resilienza. La vita e le tragedie di Leopoldo Trieste raccontano una storia di trionfi artistici e tribolazioni personali, una narrazione che rispecchia la complessità dell'esperienza umana. La sua eredità sopravvive attraverso i personaggi che ha portato in vita sullo schermo e sul palco, così come nell'impatto duraturo che ha avuto sul cinema e sulla cultura italiana. La capacità di Trieste di trovare un significato sia nelle gioie che nei dolori della vita serve a ricordare in modo toccante le profonde connessioni tra l'arte e lo spirito umano.